Un intero appartamento di sette stanze sotto la statua equestre di Vittorio Emanuele II, uno dei simboli di Milano, coperta da mesi per i lavori di restauro. Già a gennaio la clamorosa scoperta di un tunnel sotto il basamento del monumento inaugurato nel 1896 in Piazza Duomo e dedicato all'allora Re d'Italia. Ora il settore Arredo Urbano e Verde del Comune di Milano ha scoperto le stanze segrete finora ignote a tutti e non registrate in nessun archivio. Si tratta di sette locali collocati a quattro metri di profondità rispetto a Piazza del Duomo, con soffitti voltati a sesto ribassato risalenti alla fine dell'Ottocento e sopra i quali è stato realizzato il monumento. Tramite un foro di carottaggio i tecnici hanno calcolato profondità e larghezza dei passaggi sotterranei e poi hanno rimosso uno dei lastroni del basamento che era stato aggiunto nel 1929. I vani sono tutti comunicanti tra loro e collegati al cavedio verticale centrale che era stato utilizzato per far scendere gli operai all'interno della statua. Una scoperta utile anche da un punto di vista tecnico, perché consentirà di proseguire i lavori senza danneggiare la statua usando la stessa tecnica di allora, con un risparmio addirittura sui costi. Non solo, ma all'interno dei vani potrà essere inserito il dispositivo antipiccioni a ultrasuoni con conseguenti vantaggi estetici e di sicurezza. Infine, una volta terminati i lavori, a fine giugno, il Comune valuterà la possibilità di consentire visite mirate alle stanze segrete che potrebbero diventare un'ulteriore attrattiva di Piazza Duomo.